Un tavolo di lavoro è stato convocato per il 26 giugno per concertare le iniziative da adottare per l'Ateneo di Teramo che non sembra, diciamo che è proprio in difficoltà per il calo di iscrizioni registrato, un'iniziativa da lei promossa. Io ritengo che il sindaco si debba occupare anche di queste problematiche, l'università è patrimonio di questa città, è una grande risorsa per tutto quello che riesce a muovere, ma poi perché voglio dire si è lottato tanto per avere questa università a Teramo e sarebbe davvero un peccato se ci fosse anche la minima possibilità che questa università dovesse sparire. Quindi la mia preoccupazione non è assolutamente il volere andare a individuare delle responsabilità, però sicuramente l'obiettivo è quello di andare a individuare le soluzioni a che questa università possa risalire da un punto di vista delle immagini, da un punto di vista delle iscrizioni, per tutto quello che è possibile. Ecco perché ho convocato questo tavolo tecnico, ecco perché a questo tavolo parteciperanno tutte le istituzioni, già c'è stata un'altra richiesta da parte di alcuni sindaci che vogliono essere presenti e quindi tipo il sindaco Pompizzi che chiede di essere presente sarà invitato, ma ripeto tutti coloro, tutte le associazioni che vorranno partecipare a questo incontro sono bene accetti. Ripeto, discuteremo dei problemi dell'università di Teramo e cercheremo di dare delle soluzioni. Non è facile ma bisogna provarci perché l'università è una grande risorsa e va in qualche modo difesa e va protetta.